Il gruppo Zucchi ha stretto un accordo di licenza con Cotton USA nel 2003. In quel momento il gruppo, con una delle due marche proprietariche Bassetti, doveva rilanciare sul mercato le tinte unite. Nasce quindi nella primavera-estate del 2004 in tinta Bassetti, firmata a cotone americano. E' quindi una relazione molto duratura, che dura ormai da più di un decenno, e che continua oggi non solo sulla marca Bassetti, ma anche sulla marca Zucchi, che è l'altra marca che fa parte del nostro gruppo. Il core business del nostro gruppo, a cui appartengono i marchi Zucchi e Bassetti, si focalizza tendenzialmente sulla biancheria da letto, che è realizzata in 100% cotone, quindi una fibra totalmente naturale. Per questo l'utilizzo del cotone americano conferisce al prodotto comfort, morbidezza al tatto e soprattutto resistenza, che è una resistenza di due tipi. Una resistenza dei colori, che quindi rimangono brillanti nel tempo, e una resistenza quindi all'usura e ai numerosi lavaggi. Per me è molto importante perché dà valore al prodotto dal punto di vista proprio della qualità intrinseca. Perché una fibra 100% naturale, coltivata responsabilmente, pura, resistente, permette durante il processo produttivo di avere minori fermi macchina, quindi di velocizzare il processo produttivo, e di ridurre sensibilmente la seconda scelta. Quindi questo, dal punto di vista industriale, significa avere dei costi di produzione minori, e quindi sicuramente un vantaggio competitivo importante. Innanzitutto ci sono dei vantaggi in termini di comunicazione. Questa collaborazione è pubblicizzata su tutti i materiali che noi realizziamo, a partire dai materiali di vendita, ai materiali punto vendita, ai cataloghi, social network, le comunicazioni in tv, sulla stampa. Il fine di questa comunicazione è quello di informare il nostro consumatore che un prodotto di marca è un prodotto di qualità, e che la qualità è una qualità che noi garantiamo lungo tutta la filiera produttiva, a partire dalla materia prima, che è il cotone americano. Beh, è difficile descrivere cotone USA in una sola parola. Se sono obbligata a farlo, sicuramente direi qualità.